L'Unione Europea, la governo Renti, sono politiche che stanno colpendo le classi sociali che già dal 2008 subiscono gli effetti di questa crisi economica. Allora vogliono raccontarci perché la scuola funzioni meglio, la scuola deve essere privatizzata. Vogliono raccontarci che per lottare contro la disoccupazione dobbiamo rinunciare ai nostri diritti e a tutte le tutele nel mondo del lavoro. Bene, noi non siamo una banda di ignoranti, non siamo nemmeno una banda di servizi del sistema. Siamo donne, uomini, studenti, studentesse, lavoratori, lavoratrici, e noi, e noi. Si trattano ogni giorno, nelle scuole, nelle università, nelle fabbriche, nelle aziende, per chiedere più diritti, per chiedere un futuro degno per tutti e tutte. Avanti! Facciamo sentire la nostra voce alla città del Vene, facciamo sentire che anche in questa città c'è la capacità di trasformare, di attraversare le strade e le piante con contenuti, con dignità, con tanta determinazione e rabbia degna. Questi siamo noi, primini siamo noi, primini è nostra, avanti, primini libera! Un saluto a tutta la piazza, entriamo oggi in piazza Kavur, una piazza Kavur che abbiamo conquistato. Una piazza Kavur che è la nostra, una piazza Kavur che rivedica i diritti, una piazza Kavur che rivedica la libertà delle persone, di spostarsi, mobilitarsi e d'attare. Questa è la nostra città, questa dovrà essere la nostra scuola, libera e accessibile! Grazie! 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 Un applauso a noi, un applauso alla Limi di Calotta, un applauso a tutti gli studenti che sono rimasti qua, che sono rimasti qua, si sono ripresi il diritto alla città. Che si sono ripresi il diritto a buon momento, che si sono ripresi questa città, che non avesse la perna solidale a tutti e a tutti. Ricordo che ogni lunedì a Casa Maniva, a Alcimianario Campana, alle quattro c'è l'Assemblare del Collettivo Studenti, per rimenticare e continuare a lottare per i nostri diritti. Grazie! 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 Grazie!